Non si placano i malumori di diversi cittadini residenti che, con l'avanzamento dei lavori sulle sirigate e il posizionamento dei New Jersey, hanno deciso di costituire un comitato, di organizzare una raccolta firme e di inviare una lettera a istituzioni e autorità per esprimere la totale contrarietà all'installazione delle barriere. Secondo i cittadini, i muri in cemento non rappresenterebbero una misura di sicurezza valida, ma bensì andrebbero ad incrementare la pericolosità nel tratto stradale che collega a Pesaro alla Romagna, per i residenti e le abitazioni che si appacciano sulla strada e per chi vi transita quotidianamente. Troppo elevato anche l'impatto ambientale derivante dall'intervento, descritto dai cittadini come una separazione invalicabile fra il territorio del parco e quello del preparco, come sottolineato anche da diverse associazioni ambientaliste. Gli stessi firmatari chiedono quindi che vengano prese in considerazione altre misure per incrementare la sicurezza dell'area, come per esempio la riduzione a due corsie dell'intero tratto stradale. Noi abbiamo inviato una lettera sottoscritta da 80 residenti all'inizio di dicembre, indirizzata a tutte le autorità, per segnalare questa situazione secondo noi assurda e questa decisione che sembrava già presa, della quale abbiamo preso dal personale ANAS casualmente che lavorava sulla strada. Quindi la cosa non ci è stata comunicata, non siamo stati coinvolti in nessuna fase della negoziazione che anche ANAS ha confermato ha avuto luogo con le istituzioni e ci siamo trovati di fronte al fatto compiuto. Questo ci ha indotto a raccogliere tanta firme e a inviare una lettera circostanziata a tutte le istituzioni della cittadina e non per segnalare il nostro dissenso e che specificava puntualmente le ragioni della nostra opposizione a questa misura. Quella lettera non ha avuto alcun riscontro ad oggi purtroppo, per cui ci siamo visti costretti a costituirci in comitato perché su questa questione crediamo che nell'interesse della sicurezza e dei cittadini ma anche nell'interesse della collettività e dell'ambiente non si possa lasciare perdere. Abbiamo anche saputo che come parte del progetto che pare sia in evoluzione ma che ad oggi a noi non è stato possibile visionare, che questo stesso progetto preveda la diminuzione della strada a due corsie invece che quattro e l'installazione di reti metalliche per prevenire l'attraversamento degli animali. Quindi ci chiediamo se era comunque in programma la diminuzione a due corsie così come sarebbe giusto perché questa è una strada extraurbana secondaria, le cui caratteristiche stabilite per legge sono due corsie e due banchine. Come mai prima si procede con l'installazione di un costoso muro e invece non si è pensato di ridurre prima le due corsie, di mettere in atto delle azioni per rallentare effettivamente la velocità dei veicoli. Noi che viviamo qua siamo convinti che ci fossero numerose altre misure alternative rispetto a questa che ha un costo altissimo ed un impatto ambientale insostenibile.